Claudio Bisio ha ricevuto il premio Francesco Nuti, voluto dalla famiglia, per ricordare il grande cineasta toscano. Al cinema la Compagnia di Firenze e la premiazione in una serata dedicata all'estro geniale di Francesco Nuti. Il coraggio di essere a 360 gradi, non aver paura di emozionare, di raccontare anche una storia romana. Lui nasce comico proprio, verace, toscano, invece poi è andato sulle albi a fare delle cose poetiche. Ogni cosa che si fa è andare fino in fondo, non sfiorarla, non avere paura di smussare gli angoli. Ogni angolo, per angolo intendo degli apici, anche quelli comici, quelli drammatici, quelli romantici, anche il romanticismo è una cosa bella. E lui è riuscito anche, mi emoziono mentre lo dico. La prima a voler ricordare Francesco Nuti è la figlia Ginevra, che ha ideato il premio Memoria del Padre, dedicato a registi, attori e artisti del cinema italiano. Nasce per ricordare mio papà, cioè per portare avanti la sua arte. Nasce in realtà a casa, proprio parlando di come potevamo in qualche modo anche far conoscere mio papà magari ai più giovani. Mio padre, penso di poter dire che la sua firma principale è il fatto di essere un artista completo, quindi a 360 gradi, cantava, recitava, insomma lavorava come regista, dipingeva, scriveva. Quindi questa è, secondo me, una delle sue caratteristiche più forti. La prima edizione del premio Francesco Nuti nasce dal desiderio unanime della figlia Ginevra e di Anna Maria Malipiero, ex compagna del regista, insieme alla produttrice Silvia Groppa. La Regione Toscana e il Consiglio regionale della Toscana hanno subito sposato questo progetto, scegliendo di sostenerne la realizzazione. Francesco Nuti è un'espressione dell'identità toscana, un uomo che è da attore, da regista, da figura di straordinaria intelligenza, acume, sarcasmo e ironia. Un maledetto toscano, ma Francesco Nuti lo vogliamo ricordare proprio attraverso quello che vuole essere il suo respiro e la sua identità verso il futuro. Ecco quindi il premio, ecco quindi il ringraziamento alla sua famiglia. È un modo semplice per dire grazie a un ambasciatore della Toscana nel mondo. Non è stato soltanto un grande uomo di cinema, con le sue opere è riuscito ad emozionarci, a raccontare la Toscana ma a costruire poesia. È uno di quegli autori che porto nel mio cuore e uno di quegli autori che porta la Toscana nel mondo. A ricevere il premio anche Sabrina Ferilli, partner di Nuti, nell'ultimo film della trilogia sul bigliardo, Il signor Quinticipale, che ha ricordato l'amico regista. Sentimentale, mai volgare, diciamo così tra virgolette all'americana, che il cinema italiano ha avuto. E quindi gli va riconosciuto questo, veramente un'unicità di regia e di stile nel raccontare appunto le storie, le storie d'amore, le storie della vita. Lo porto nel cuore, sono felice, dice che ci sia questa rassegna dedicata a lui. E sono felice veramente che la famiglia Nuti abbia pensato anche, insomma, di riconoscermi questa vicinanza che ho sempre avuto per Francesco, oltre che una vera e propria devozione.